Salve a tutti, io sono Vittorio, lei è mia moglie Ivana e lei è la nostra piccola Vittoria. Veniamo dall'Italia e niente, come siamo arrivati qua? Abbiamo seguito chiaramente tutta la trafila in Italia, quindi solite procedure, fecondazioni e via discorrendo. Poi a un certo punto della vita mia moglie per via di un problema di salute si è trovata impossibilitata ad andare avanti con tentativi, per cui l'unica nostra alternativa per realizzare il nostro sogno era quella di provvedere, insomma, andare avanti con l'idea di un utero surrogato. E quindi è da lì che è cominciata la ricerca dell'associazione a cui rivolgerci. All'inizio ero un po' titubbante perché chiaramente non è che ci sono stati amici o conoscenti che hanno avuto esperienze prima di noi e che hanno potuto consigliarci a quale istituzione, meglio di un'altra, affidarci. Quindi la ricerca è stata portata avanti da me grazie ad internet, insomma, e di lì mi sono confrontato con diverse istituzioni, tra cui questa qui, Fescov. Da subito la sensazione che ho avuto rispetto ad altre è stata quella che è una professionalità, disponibilità e immediatezza di risposta alle domande e tutto quanto. Quindi la scelta di una clinica piuttosto che un'altra all'inizio è stata dettata dalle mie sensazioni. E così è cominciato questo percorso. Nel ottobre 2019 siamo venuti qui a Kharkiv dove abbiamo conosciuto tutto il team e le sensazioni appena siamo arrivati subito si sono rivelate veritiere perché ringrazio l'interprete Xenia che ci ha subito accolto che è una ragazza che oggi noi amiamo, è sempre stata disponibile in tutto, è dolcissima, è sempre cordiale nei nostri confronti, altrettanto tutta l'equip medico che ci ha seguito e l'intero team della clinica. È chiaro che oggi posso fare un confronto con quello che è accaduto anche in Italia perché non è stata la nostra prima esperienza di clinica, anzi noi proprio perché siamo reduci da esperienze fatte anche da noi nel nostro paese, appena siamo venuti qua subito abbiamo visto un'organizzazione e un tradottori, una certa professionalità che subito ci ha stupito e lì subito abbiamo capito che la scelta della clinica era stata giusta. Poi il percorso è andato avanti, c'è stata la nascita di Victoria che oggi abbiamo tra le nostre mani grazie ai tanti sacrifici fatti da noi ma grazie anche alla professionalità della clinica e tutto quanto. Niente, che dire, io oggi se dovessero chiedermi qualche consiglio, innanzitutto sono aperto su tutti i consigli eventualmente che mi vengono chiesti, però sono entusiasta della scelta. Non ho niente da rimpiangere, lascerò questo paese con enorme entusiasmo, con lo stesso entusiasmo con il quale sono venuto. Quindi se dovessi sicuramente consigliare la clinica lo farei al 100%, lo farei con tutto il cuore. Io oggi ho realizzato un grande sogno che è quello di avere qui Vittoria e avevo perso ogni speranza, però grazie al team, grazie a Fescov, grazie a tutti abbiamo avuto il nostro miracolo, finalmente. Grazie. Grazie a tutti.